Mister, in fase di presentazione l'avevi detto, era una partita estremamente complicata perché loro sono probabilmente la squadra più in forma di questo campionato e oggi insomma ha dimostrato di essere una squadra di spessore, oggi non si è riusciti a trovare probabilmente la prestazione che ti aspettavi e che desideravi. Sì, siamo partiti male indubbiamente, merito sicuramente alla forza loro, noi ci siamo fatti un pochino sorprendere da tutti questi movimenti dei ragazzi avversari che avevamo provato alcune cose, non siamo riusciti a farle, siamo andati in difficoltà e poi anche a livello tecnico abbiamo sbagliato un po' troppo in ripartenza e quando concedi così tanto all'avversario, all'avversario così forte poi dopo ti castiga, nonostante il nostro portiere abbia fatto un'ottima partita quindi quello dimostra che complimenti sicuramente all'avversario, noi potevamo e dovevamo fare qualcosa in più però insomma ci serve la lezione, evidentemente non siamo pronti per certi livelli e speriamo di arrivarsi prima della fine. Ecco, secondo te l'approccio alla gara è stata forse proprio la loro partenza forte che è un po' bloccato anche mentalmente e probabilmente i tuoi ragazzi? Sì, sì, probabilmente loro sono partiti forti e noi non siamo stati lucidi a capire che probabilmente non era il momento di giocare palla vicina magari dovevamo saltare una linea di pressione con qualche palla di attaccanti perché perdendo tante palle lì vicino all'area di rigore poi loro hanno grande qualità e ci hanno messo in difficoltà. Lo so che per un allenatore perdere una partita non è mai bello, certo però sconfitte come queste possono servire anche ai ragazzi nel percorso di crescita e soprattutto ora c'è da resettare comunque questa sfida perché tra sette giorni ce n'è un'altra contro un altro avversario molto forte. Sì, indubbiamente i ragazzi comunque come ho sempre detto non possiamo dire niente a livello di prestazioni anche oggi comunque siamo stati sotto tono però la reazione anche del secondo tempo dei ragazzi mi è piaciuta hanno provato a fare gol nonostante la partita fosse finita, loro hanno sempre la voglia di dimostrare, di fare quello non deve mai mancare, poi è ovvio che ci si scontrerà con squadre nettamente più forti di noi probabilmente a livello tecnico però come abbiamo fatto in passato che abbiamo tenuto testa a tante andremo avanti così, fare il nostro lavoro e far crescere i ragazzi.